si tratta di un'associazione di artisti la loro maggiore influenza veniva dal fovism e le tre mostre che organizzarono risultarono troppo avanzate per pubblico e critica tanto che subirono parecchie ingiurie la seconda mostra che realizzarono ebbe carattere europeo con opere di alcuni artisti già passati al cubismo franz mark difese questa associazione e fu in questo modo che incontrò kandinsky quando un dipinto astratto di kandinsky venne rifiutato per la terza esposizione l'artista lasciò l'associazione e fondò con mark der blauerreiter il cavaliere azzurro kandinsky fu eletto presidente alexander canold fu il segretario e adolf erblosch il presidente del comitato per le esposizioni tra gli altri membri ci furono javlensky cubin la compagna di kandinsky gabriele munter e la compagna di javlensky marian von verevkin questa associazione venne fondata nel 1909 e non durò molto già nel 1911 era la sua ultima esposizione venne fondata a monaco di baviera in germania il motivo della creazione di questa associazione sta nel desiderio di fornire un'alternativa più liberale agli spazi per esposizioni esistenti in particolare alla secessione se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando i tuoi amici ti